Il mio figlio è il mio figlio. Fate come dico io. Fermatevi ai punti di sosta per le munizioni. Il primo è lungo il fiume, quindi se fosse al vostro posto porterei subito il culo là. Capito? Si fa tardi. Proviamo il punto di sosta. Non so combattere! C'è marazzi! Sì! Sì! È morto! Si fa tardi. Proviamo il punto di sosta. Tanti multipli! Su per le scale! Bene! Ora va bene. Batti terra. Andiamo! Andiamo! Grazie! Grazie! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Uman! Inghietto! Ciao ciao! Bene! Ania, abbiamo attraversato il fiume. Il punto di sosta 1 dovrebbe essere più avanti. Come va, Baird? Ah, è una merda. Qualcuno ha riconosciuto Cole. Adesso tutti vogliono sentire le storie di quel fesso. E si sono anche messi a chiedergli l'autografo. Ehi, Cole, facci l'autografo! Voi dove diavolo siete adesso? Ci stiamo lavorando! Restate lì! Dannazione! Restala! Arriviamo! Resta sotto la luce! Oh, merda! Franklin! Santiago! Ehi! Ora è buio! State a mattina! Ormai i Krill dovrebbero essere in giro! Eh già! Hanno appena ucciso quelli che stavano al punto di sosta 1. Merda! Va bene! Ciao, Santiago! Vuol dire che vengono da questa parte! Johnson! Le luci! Amico, datti una mossa! Il punto di sosta 2 è lì davanti! Bene! Il punto di sosta 2 è lì! Ah wa! Ah… merda! Un cattiverno! Parata ai barili! Fuori, ominide. Fuori, ominide. Fuori, ominide. Sparate a ogni barile di fu... La gente non piacerà a Marcos, loro la usano sta roba. O facciamo... Fuori, ominide. Fuori, ominide. Sparate ai barili. Ah, dannazione! Grazie a tutti. Fuori, ominide. Fuori, ominide. Grazie. Grazie a tutti. Sparate a ogni barile di propano che vedete. Ci serve della luce. La gente non piacerà a Marcos. Loro la usano sta roba. O facciamo così o ci ammazzano. Quindi lo facciamo. No. 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 Ah, merda. Passeremo attraverso l'edificio. Capito. Roba da niente. Cole, ci sei? Tutto ok? Certo, baby. Abbiamo il contatto. Ci stanno facendo una cena da sballo. Ci prenderà una dissenteria con tutta sta merda. Bayer ancora deve riprendersi. Di a Bayer di stare zitto di mangiare. Torniamo presto. Ricevuto. Eh? Oh! È felice. Saowania bene. Grazie a tutti. 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 Delta, qui controllo. Vediamo dei nemici sul radar, accanto alla posizione di Delta 2. Ricevuto. Loro lo sanno. Affermativo. Stanno prendendo misure difensive. Ricevuto. Delta, chiudo. Allora... Allora... Prendi! Vai! E vai! Ricarica! Prendi! 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 Grazie a tutti E ora a puio pesto Resta qua, io entro per spostare quella luce Beyrd, aggiornami Ci sono delle locuste e stanno per arrivare anche i Krill Ce la fate a resistere? Per ora sì, ma prima tornate, meglio è Sono stato chiaro? Ricevuto, Fenix chiudo Grazie a tutti Marcus, portami dall'altro lato Comprimi Grazie a tutti Tutto ok? Grazie a tutti 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 Beyrd, finalmente Beyrd, sono Marcus, rispondi Beyrd La radio non va Dobbiamo tornare là Beyrd, 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 beyrd Beyrd, 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 be Dannazione. Stiamo cercando la stazione di Chaps. Davvero? Buona fortuna. Non ci sono luci fino a là. Mi sa che siete fottuti, eh? Ah, davvero. Vabbè, entra nella casa, io accendo le luci. Jack, resta qui e stai in contatto con questo tizio. Sì, ok, ci parlo io con questo derelitto. Potete contare su di me. Niente cazzate. Ehi, beh, tanto non vi rivedo se faccio una cazzata. Perché sarete morti. Questo lo ammazzo. Là dentro è una vera merda. Windy, occhio, ok? Lusci accese? Oh-oh. Oh, stavo scherzando. Oh-oh. Bene. Bene. Grazie a tutti. Oh, merda. 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 Entrate. Ho delle munizioni nel retro. Merda. Oh, 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 merda. Telefon per di benzina! For me! Bastide! For me! Un verme è andato! Granata! Sono vecchio! Fa ancora posto! Muori! Ah, merda! Controllo! Abbiamo il veicolo! Ora torniamo a prendere il resto della squadra! Presto, Marcus! Le Locuste e il Krill stanno attaccando pesantemente la loro postazione! Merda! Sali! Storm! Andiamo! Ora va bene! Droni! Su! Di nuovo! Dentro! Via! A sinistra! Deficente! A sinistra! A sinistra! Ci saranno dei Krill! Usa la torretta Ufi! Questo Junker può alimentare la torretta o il motore! Non tutti e due! E khai! Nfi! Agrirà che coda! È una poranna! Crime! Che c'era di là... Uno di voi, indio, ti farebbe bene a usare la torbocchio! Crucia lì! Uno di voi, indio, ti farebbe bene a usare la torbocchio! Ore sei! Occhio! Un poco più avanti! A meglio! Sì, io d'occhio! E' questo che ucciso! Prescita l'autostrada che vai dentro! Vai, gli occhiali! Forse non dovrei parlare! Ore sei! Hai schifo! Dina, si viste! Ore undici! Servono i miei occhiali! Occhio! Ok! Tienili lontano da me! Forse non dovrei fare, io fai schifo! Ok! 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 Grazie! Ehi, sono Marcus. Abbiamo lo Junker, ci ricevete. Sì, stai arrivando. Qui ci stanno mettendo all'angolo. Ci siamo quasi. Mi sa, che gli sarebbe tu aiuto? Va bene.